12 mesi con la collegiata di San Michele Arcangelo, una raccolta di immagini d'epoca della solofra che fu. Quest'anno mi sono avvalso della collaborazione dei giovani che, ben formati, anche non solo culturalmente ma anche religiosamente, mi hanno dato una mano per costruire questo calendario che riporta alcune immagini della città di solofra com'era. Ogni mese c'è un'immagine particolare. Chiaramente sono delle fotografie la più antiche della fine del secolo XIX e poi alcune del secolo XX. Riportano alcune immagini della festa dell'Arcangelo molto sendita a solofra, riportano alcuni rioni o alcuni palazzi di cui abbiamo solo il ricordo. e l'auspicio che da questa immagine possa ricostruirsi una solofra dove c'è una pace che si costruisce man mano, dove c'è il benessere coniugato con il volersi bene, con il mettersi a disposizione l'uno dell'altro, il benessere con la solidarietà. Sì, è un lavoro che abbiamo portato avanti già da diversi anni. Le fotostoriche infatti sono una parte del nostro progetto, c'era una volta solofra, e in questo caso dobbiamo ringraziare anche le molte persone che si sono affidate appunto all'associazione per questo lavoro. Abbiamo messo insieme degli scatti che raccontano una solofra passata, una solofra dalle grandi tradizioni, della grande storia, sia lavorativa sia religiosa, ma che comunque ha da insegnare molto ed è uno spaccato sociale nel quale possiamo riconoscerci ancora. Questo è un lavoro corale perché oltre a quello dell'associazione si fa anche il lavoro dello staff della collegiata, che cura la parte social media della collegiata, che già da più di un anno e mezzo opera con i suoi canali social per portare anche all'esterno, c'è riuscita anche in concomitanza di solenni festeggiamenti o con altri momenti importanti e liturgici durante l'arco dell'anno, a portare appunto la bellezza della collegiata lontano e a, diciamo, instillare nei solofrani che sono all'estero quel sentimento di appartenenza che ancora li lega a noi. Grazie a tutti.